I Fondatori I Fondatori di cosa? Della peggior caccia al tesoro Ci sono i sigilli di Every Two Hanno qualcosa di diverso Sì, hanno quei motivi stellati Ruotano? Beh, in quale verso bisogna ruotarli? Chi sono questi? Altri simboli pirata Adam Baldrige Anne Bonny e Christopher Condent Voilà Sono... Non lo sai, eh? Ehi, come si dice? Il mare è pieno di pirati Siamo bloccati? No, ma che bloccati? No, dammi il telefono Cos'è? Vuoi l'aiuto da casa? Più o meno Scrivo a Sam Ci siamo Ehi, sei ancora nella torre? Sì, sono tornato giù Perché mi hai inviato questa foto? Ti spiego dopo Per ora, dimmi chi sono Beh, i delfini sono Richard Wont Il tridente è Joseph Farrell Le due mani con la perla sono William Mace Perfetto Resta dove c'è campo Potresti ancora servirmi Ehi, Nathan Hai trovato il tesoro? Non ancora Ma ho un enigma da risolvere Ti aggiorno Ecco Ok Quindi chi c'è qui? Ehm Sono sconvolto dalla tua ignoranza in materia In realtà so tutto Voglio solo che Sam sia al corrente Inoltre gli piace sentirsi utile Ah, certo Sam mi ha risposto Ah, vedi Sally? Neanche Sam è onnisciente No 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 mi piace